Mi vuole dire com'è andata questa fiera di San Giuseppe quest'anno? Lascia perdere, guarda, lascia perdere, guarda che abbiamo avvocato 200 euro, guarda dove siamo, lascia perdere, stanno proprio a rovinare sta festa, guarda. E quindi tutta la pubblicità che c'è stata, rivalorizziamo il centro storico? Ma la fai valorizzare, ma lascia perdere. Perdonami, ma qui ci sono persone incompetenti, mi dispiace dirlo, ha mal in cuore, però di sicuro la stanno distruggendo, c'era una delle più belle fiere che io conoscevo, guarda, la stanno distruggendo mano a mano. Oggi non mi è piaciuta proprio, era meglio prima. Che cosa non è piaciuto? Tutto. Troppo sparsi, hanno messo spezzati in mezzo attivo, non sta tutto in un posto. A noi è abbastanza male, praticamente col posto che ci hanno messo qua non è andata molto bene. Ok, vi siete sentiti isolati? Eh sì, siamo proprio in un'altra parte. Quante pignie di San Giuseppe ha venduto oggi? Beh, normale, la fiera è bella. Io è la prima volta che vengo qui. Ah, è la prima volta che vengo questi pignoli? Sì, con questo prodotto sì, è la prima volta. Eh, va benissimo, bene, bene. Non male. Non male, hai visto? Un po' meglio dell'anno scorso. I passaggi, si passa, sono diversi, quindi sarebbe stato meglio farla nella parte vecchia, cioè la parte dove si faceva sempre altre volte, cioè al lago dove sta il mercato. Buona. La vista bene, signora? C'era questa novità di concentrarne nel centro storico, che le dite? Sì, va bene, va bene, è abbastanza fluibile, è buona. Come la vede questa novità del centro storico? Beh, troppo stretti, troppo ammucchiati, però vabbè, vanno rivalutare il centro storico, meglio così. Grazie. 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 Grazie a tutti.